Buon Natale! Buon Natale! Buongiorno e Buon Natale da New York! Oggi fa freddissimo, però sono imbaccucata perché sono messa le calzamaglie tipo leggings a pantalone, poi c'ho un maxidress, la collana, Carlita jewelry, medagline, monete, monete che l'abbiamo fatta sia a oro che a argento, è bellissima, poi sono messa questo cappello che sembra tipo un asciugamano turbante e stiamo andando a fare colazione. Ci sono due intrusi nel mio vlog. E quindi ragazze oggi andremo a Central Park a patinare, andremo a patinare a Central Park, vero amore? Buongiorno, Merry Christmas! Merry Christmas! Siamo felicissimi e poi dovremmo andare a Soho e vorremmo andare anche a vedere la casa di Kerry! A Central Park, grazie! Central Park? Adesso dobbiamo andare? Dobbiamo fare mia colazione? Eh sì! Ah ok! Ho davvero una fame! Comunque qui è bellissima, adesso vi faccio vedere quanto è bella! Pensiamo che non torniamo più! Stupendo! Qui è Times Square, poi abbiamo prenotato tutti i tour, ragazzi ci siamo prenotati già tutti i tour per andare a vedere le tour di Gemelle, la Stata della Libertà, il ponte di Brooklyn e tutto! Ciao! Ciao! Loro sono due newyorkesi che abbiamo trovato qua! Le abbiamo adottate! Poiché sono per bene, le abbiamo adottate! E quindi va bene! Ciao! Forever 21! Stiamo cercando un posto per fare colazione! Colazione da Starbucks! Sono presa queste cosine! E mio amore chi si è presa? Cookie! Cookie! Buon appetito amore! Buon appetito! Ragazzi siamo venuti a vedere la casa di Kerry, che non è questa, la stiamo cercando, però questa è stupenda! Guardate che meraviglia queste case! Cioè sono bellissime! Adoro! Stiamo trovando 66 Perry Street che è la casa di Kerry e poi andremo a Soho! E' bellissimo qui! Vai! Stiamo cercando la casa di Kerry! Qui è bellissimo! Però fa un freddo! Trevento! Ci sono sempre queste incursioni dei miei video! Non capisco! Comunque qua ci sono le case proprio come il film di Sex and City! Guardate! Ci sono le persone che mi seguono! Oh mio Dio sono troppo belle! Guardate queste scalette! No vabbè! Bellissimo! Poi oggi è Natale quindi praticamente è tutto chiuso! Stiamo più tranquilli! Abbiamo trovato la casa di Kerry! Mi chiamiamo? Voglio potresti che scendere! Che? Bus, bus, di rispondo! Ok ora facciamo avanti a Kerry! Alla noi c'è facciata dai! Stai do bagno! Ragazzi abbiamo trovato la casa di Kerry È bellissima Oh mio Dio Guardate che stupenda È meraviglioso Sembra di stare proprio a Sex and the City È stupendo Guardate Bellissima Che bello Ma che è una scimmia Siamo tornati di nuovo in Africa amore Le scimmiette Scogliattoli che belli Questo è il Washington Park Che belli Eccolo guarda Ha mangiato Stai venendo Stai venendo vai Eccolo E' bellissima E' bellissima E' bellissima E' bellissima Guarda come stava mangiando Guarda quelle manine Troppo bello Guarda quelle manine Che bellissima Amore portevano una cosa Facciamo giocare con Pupi Amore Sì Sì Eccolo 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 Adesso Signora vanno Perate Signora Sì 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 Quante piano Ottantissimo No cavolo Sull'Empire State Building Ragazzi si vede Tutto Oh mio Dio Ragazzi fa paura Guardare da qui su Tutta New York Stupendo Amore Ti piace? Bellissima Sì 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 Amore Molto bello Ragazzi siamo Perdonate ma siamo sconvolti perché fa freddo e stiamo in piedi da stamattina Sono nel suo mercato Ci sono delle patatine e delle cose stupende guardate qui No vabbè Pazzische col burro d'arachidi Alla paprika Al cheddar Queste al cheddar Oh mio Dio Poppocorn No vabbè Meraviglia Imbarazzo quando dici Ah prendiamo una busta di patatine Vai Prendiamole tutte Stiamo andando a fare il tour Delle lucite case Debrate Addobate Per mancare Case gustosissime Spero che la fotocamera non vi abbandoni Perché ho praticamente la batteria scarica E quindi qui è bellissimo Stamattina abbiamo fatto una corsa Io e Dario Perché siamo andati al centro Masis Mesis E abbiamo fatto un po' di shopping E oggi abbiamo questo tour Ogni giorno abbiamo tour Visite Musei Quindi io in tutte queste cose Incastro sempre un po' di shopping E quindi È veramente una vacanza molto bella E impegnativa Quante persone devono andare Visto che siete in po' Quante persone devono andare Molto impegnativa Comunque Amore tu vuoi dire qualcosa? Ragazzi si vede a New York È bellissimo New York Meraviglia Ragazzi a chi Che meraviglia Quale amore qual è? Quella sulla destra amore Questa? Questa Siamo a Brooklyn Che belle queste case Stupende Per addobbare una casa così Dicono Ci vogliono 20.000 dollari Wow Ragazzi guardate questa villa C'è la barca Con il pescatore Che ha pescato il pesce Oddio Troppo belle Queste case Guardate Guardate questa Anche com'è bella Qua c'è Gesù bambino Tipo presepre Presepio E Popazzo di neve Sono stupende queste case Che macchinoni Vero amore Vero amore Andiamo a venire a vivere qui Guardate E' bellissimo Dai Ci passiamo Tra la sfida Dice che una di queste case Costa Intorno ai 3 milioni di euro E per addobbarla così Occorrono 25.000 dollari Ma da quelle Sembrano tipo di marzapane Sono stupende Spada E' polizia Incendio in corso Ragazzi Quanti ho riuscito C'è un incendio Tantissimo fumo Non si capisce cosa Si Sta bruciando Ma non si respira C'è tantissimo fumo Amore Stanno capendo le mie salute Cosa ti sta bruciando Cosa ti sta bruciando Ragazzi Ragazzi Oh mio dio Ti sta bruciando Quello che fa i vanini Tutto Oh mio dio Speriamo Nessuno si sia fatto male Siamo nel locale Di Forest Gump Qui è bellissimo E c'è tutta la vista Di Times Square Guardate che meraviglia Dalla finestra Sì E' l'unico Questo posto E fa un sacco di cose buone Voglio assolutamente provare La mac and cheese Con i gamberi Vero amore? Sì Sì Troppo bello Troppo bello Sì Rimaniamo qua Non partiamo più Dopo la cena Della vigilia Un bel dolcino Questa è la tipica cheesecake americana Questa E questa è una torta Che non mi ricordo come si chiama Però anche questa è tipica americana Adesso la proviamo È stata una bellissima cena L'abbiamo mangiato benissimo Ecco qua il chiosco che si è incendiato Si trova proprio qui sulla 50 Avenue A New York Sì Andiamo Speriamo che nessuno si sia fatto male Amore Non credo Speriamo che nessuno si sia fatto male Wow I totally didn't even remember I totally didn't even remember If Dessis I foarte O I I I I I I I I I Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti